Ho trovato 7 siti web che puoi iniziare ad utilizzare per guadagnare da casa facilmente ogni giorno. E la cosa più bella è che tutti questi siti non richiedono nessun tipo di competenza e sono completamente gratuiti. Ma iniziamo subito con il primo sito. Il primo sito è 2CAPTCHA e ti permette di risolvere CAPTCHA. Se non sai cosa sono i CAPTCHA, sono quelle immagini che ti vengono mostrate quando ti registri ad un sito web e devi quindi dimostrare di non essere un robot. I CAPTCHA sono presenti in tutti i siti web e servono a limitare lo spam dai bot. E in questo modo si vanno a filtrare tutte le richieste di utenti non umani. 2CAPTCHA ti pagherà per risolvere questi CAPTCHA perché gli servono persone reali come te. Questo anche per assicurarsi che funzionino correttamente. Tutto ciò di cui hai bisogno è un telefono ed un computer. Quindi vai su 2CAPTCHA.com, fai clic su lavora con noi e poi clicca su inizia a guadagnare. Sicuramente questo non è il sito che ti farà guadagnare più soldi rispetto a quelli che vedremo dopo. Ma è comunque un modo estremamente semplice per iniziare a guadagnare. Soprattutto partendo da zero e senza nessun tipo di competenza. Non ti cambierà la vita ma sono soldi facili. Quindi comunque una scala da 1 a 10 lo reputo 1 a livello monetario. E se adesso ti dicessi che esiste un modo completamente passivo dove puoi guadagnare semplicemente andando ad installare un'app sul tuo telefono o sul tuo computer? Questo è esattamente ciò che fa Nielsen quando scarichi la loro app. Parteciperai anche a un concorso mensile con 10.000 euro in palio. E adesso potresti pensare, ma Dennis come fanno loro a guadagnare soldi? Dopo che installerai l'app loro avranno accesso alle informazioni sul tuo dispositivo. E loro ti stanno pagando per tale informazione. Ovviamente l'app non raccoglie dati come ID, password, siti web che visiti e altre informazioni private. E in media puoi guadagnare circa 50 euro all'anno solamente avendo l'app installata sul telefono. Direi davvero un ottimo metodo essendo che non devi fare assolutamente nulla. A quest'app do voto 2 su 10. Abbiamo appena parlato di Nielsen che ti permette di guadagnare soldi solamente avendo installata un'applicazione. Ma c'è un'altra app ancora migliore che ti permette di guadagnare ancora più soldi. Saving Connect è un'app facile da utilizzare che ti include nelle ricerche di mercato comportamentali mentre navichi su internet. Molto simile a Nielsen. Ma la cosa migliore di Saving Connect è che a più dispositivi installi l'app più potrai guadagnare. Vedrai che l'app ti pagherà 5 euro per ogni dispositivo che connetti fino a un massimo di 3 dispositivi. Questo vuol dire che puoi guadagnare 15 euro al mese o 180 euro all'anno senza fare assolutamente nulla. Ascolta, tutte le app o i siti web che visiti ogni giorno stanno già prendendo dati e informazioni su di te e non ti stanno pagando nulla per farlo. A questo punto puoi continuare a fare quello che fai ma almeno vieni pagato. A questo metodo do un 3 su 10. Se ci pensiamo ci sono molti siti web o applicazioni di sondaggi. Alcune sono decenti ma altre ci fanno solamente perdere tempo. Ma nessuna di queste è come Prolific. Prolific è un sito che paga i partecipanti per rispondere a dei sondaggi basati su studi di ricerca diretti dalle università più famose. Solitamente per rispondere a dei sondaggi da casa Prolific paga dai 5 ai 15 euro l'ora. Questo è molto più alto rispetto a quei 2-3 euro che gli altri siti o applicazioni di sondaggi ti pagano. A questo metodo io do un bel 4 su 10. Abbiamo poi Validately ovvero un sito che ti paga per testare siti web o app. Ma la differenza rispetto ad altri siti web è che Validately ti invierà direttamente tramite il mail le app o i siti che sei idoneo a testare. Quindi non dovrai più perdere tempo per candidarti e aspettare di essere approvato o meno. Saranno direttamente loro a farlo per te. Iniziare è davvero facilissimo. Ti basta andare su panel.validately.com dove ti verrà presentata questa schermata dove ti puoi registrare. Quindi fai clic su Crea Account e inizia a rispondere alle domande per creare il tuo profilo. Infine attendi che il sito web inizi a mandare sulla tua mail i siti e le app che puoi testare. Molte persone ricevono il loro primo test entro 24 ore dall'iscrizione. E in media puoi aspettarti di guadagnare dai 20 ai 40 euro al mese utilizzando Validately. Come voto a questo metodo do un 6 su 10. Ascolta, non c'è niente di meglio di soldi gratis e soprattutto costanti. Ed è per questo che al numero 6 ti ho messo FreeCash.com. Ok, la prima volta che vedrai il sito web potrà sembrarti un po' confusionario. Ma essenzialmente quello che puoi fare su questo sito è essere pagato per testare giochi. O anche siti web, oppure partecipare a dei sondaggi ed iscriverti a servizi gratuiti. Il sito ha anche una chat dove puoi chattare, appunto scrivere con altri partecipanti mentre stai completando le tue attività. Ora però voglio dirti una cosa molto importante. A volte tu vedrai delle offerte che ti richiedono di acquistare qualcosa o di pagare qualcosa per completare l'offerta. E voglio che tu eviti in qualsiasi modo questo tipo di offerte. Voglio dire, il sito si chiama letteralmente FreeCash.com e ci sono molte attività che puoi completare senza dover spendere assolutamente nulla. Quindi non farlo. In media puoi aspettarti di guadagnare circa 100 euro al mese con questo sito. E se diventi un utente molto attivo puoi guadagnare anche più di 1000 euro al mese. E qui c'è sicuramente molto più potenziale per guadagnare soldi gratuitamente. Quindi gli do un bel 8 su 10. Prima di dirti l'ultimo sito web ti chiedo di lasciare un like e di iscriverti al mio canale perché mi aiuta davvero moltissimo per creare questi contenuti. Grazie mille. Come ultimo sito web ho messo User Feel. È un altro sito web di test degli utenti e ti consente di guadagnare testando app o prototipi di siti web. Ogni test dura dai 5 ai 60 minuti e puoi completarlo dal tuo telefono, dal tablet o dal computer. Il tuo compito è quello di eseguire determinate attività, come trovare un prodotto in un negozio online e poi eseguire la procedura di pagamento. E questo aiuta i proprietari del sito a trovare e risolvere eventuali problemi di usabilità. Da qui dovrai andare su fatti pagare per testare e sosterrai un test di qualificazione per ogni nuovo utente. Ma poi potrai iniziare a guadagnare soldi facendo veri test. In media la maggior parte di test su questo sito web dura circa 20 minuti e ti pagherà complessivamente 10 euro. Anche se ritieni ad esempio che un sito web funzioni correttamente e il pagamento vada a buon fine, User Feel ti pagherà lo stesso. Ecco perché gli do un voto di 10 su 10. Grazie per essere arrivato fino a qui, ti chiedo di iscriverti e lasciare un like. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video.